Si cominci dalla manutenzione quotidiana dei luoghi e il monito lanciato dall'euro parlamentare del Movimento 5 Stelle Isabella Di Nolfi in merito alle problematiche legate al dissesto idrogeologico e alla mobilità in costiera amalfitana. L'intervento dell'esponente Grillina segue di poche ore la notizia del piano straordinario realizzato dalla Regione Campania e che vedrebbe finanziato anche un progetto per una galleria in grado di bypassare i centri abitati di maggiori e minori. Leggo di progetti di gallerie e di protocolli d'intesa sulla mobilità sostenibile che rappresentano indubbiamente delle progettualità perseguibili ma sicuramente di non facile e immediata realizzazione. Ha fatto presente la rappresentante del Movimento 5 Stelle che invece invoca soluzioni più veloci e rapide. Occorre un piano di gestione e di cura del territorio dal dissesto idrogeologico fatto anche di manutenzione quotidiana, quella che purtroppo molto spesso manca, ha detto la Di Nolfi, ricordando che raggiungere oggi la costiera amalfitana è ormai un'impresa titanica e lo sarà ancora di più con l'arrivo della stagione estiva, fa notare Isabella a Di Nolfi, quando i flussi turistici si moltiplicheranno. Per questo l'euro parlamentare salernitana, oltre ad esprimere la sua preoccupazione in vista della stagione turistica ormai alle porte, chiede che si intervenga per una viabilità adeguata senza la quale si rischia di mettere a repentaglio un intero tessuto.